Gigi a tutti ragazzi sono egli e neanche se con un discreto ritardo, pardon, ho dovuto rimettere a posto il mio computer da zero, l'ho dovuto formattare e devo ancora finire, diciamo che sono ancora al 60% ahimè Dicevo, questo è Zur, presente in settimanale di Casabangi, rubrica suddivisa in due parti dove nella prima vi parlo delle ultime novità inerenti a Destiny e nella seconda vi mostro cosa vende Zur, il venditore di esodice Provo a darvi qualche consiglio per gli acquisti, ricordo che Zur è disponibile ogni settimana a partire dalle 11 di mattina del venerdì fino alle 11 di mattina della domenica Dunque, dunque, le notizie di Destiny continuano ad arrivare naturalmente, prepariamoci all'arrivo di un aggiornamento, il 2.4.0 che sarà disponibile al download la prossima settimana Dalle 17 dell'8 settembre fino all'1 del mattino del 9 settembre ci sarà una manutenzione programmata dei server, quindi non si potrà accedere al gioco Conclusa la manutenzione, si potrà scaricare l'aggiornamento 2.4.0 La manutenzione riguarderà anche il sito Bungie.net e quindi anche i servizi della Companion App Verranno anche pubblicate le note della patch per l'aggiornamento stesso più avanti Quanto sarà grande l'aggiornamento non è stato detto. Bungie consiglia di tenere un po' di spazio libero sulla console, anche se non dice quanto Facciamo che ne teniamo liberi almeno 5 di giga, così, per star sicuri Non è consigliabile interrompere i download dell'aggiornamento una volta avviato perché potrebbe scaricare nuovamente tutti gli aggiornamenti precedenti E a me è capitato purtroppo. Ah, e per quanto riguarda i clan, niente paura se con l'aggiornamento 2.4.0 dovessero sparire i tag dei clan Che non dovrebbero infatti apparire sino a quando sarà tutto ristabilito Info riguardo ai tesori pregiati. Dalla 2.4.0 i drop dei tesori pregiati avverranno solamente tramite Il completamento della prigione degli anziani a livello 41 e potremmo ottenere solo un tesoro pregiato a settimana Come avevo anticipato dal 20 settembre 2016 arriveranno i tesori radianti che rimpiazzeranno i tesori pregiati Con la relativa polvere d'argento, nuova valuta per l'acquisto di oggettistica cosmetica tipo i decori Che lo stesso Zur dal post 20 settembre comincerà a vendere e anche lo stesso Everversum Parlando di Destiny e di Competitive, ci sarà il primo streaming di MLG, quindi Major League Gaming Martedì 13 settembre alle ore 19 italiane sul canale Twitch di MLG Sarà un evento dove parteciperanno alcuni tra i migliori giocatori in crogiolo del mondo O perlomeno tra i più famosi Questa è infatti la lista per le due squadre che si affronteranno nella nuova modalità Supremazia Disputeranno 5 partite Diciamo che se volete vedere chi sa veramente giocare in PvP dovete vedere questi signori qui Bene, è tutto per le news, ora passiamo all'analisi di Zur Eterno guerriero, casco per titano assaltatore che fornisce inarrestabile a pugno della distruzione Ovvero in automatico rende ancora più resistenti durante la super dei veri e propri carri armati Aumenta intelletto, disciplina, le granate forniscono super energia bonus Oppure uccidere i mostri dell'oscurità con armi pesanti fornisce super energia bonus Infine, le sfere di luce ripristinano la rigenerazione dello scudo Beh, in ottica di risparmio, se ricordate, direi di lasciar perdere Radar Zuccone, casco per cacciatori di qualsiasi sottoclasse che tramite sensore di scorta Rende il radar visibile quando si mira con le armi primarie Aumenta intelletto a forza, aumenta la super energia fornita dalle uccisioni dei mostri controllati dal computer Oppure le granate forniscono super energia bonus Infine, energia bonus corpo a corpo quando si raccoglie una sfera di luce Stessa cosa non è indispensabile, secondo me, anche se per me è più utile rispetto al precedente casco Però non è uno di quei pezzi must, ecco Mente d'Ossidiana, le uccisioni con bomba nuova Quindi parliamo di casco per stregoni, camminatori dal vuoto Riducono il tempo di recupero della prossima bomba nuova Aumenta intelletto disciplina, aumenta la super energia fornita dalle uccisioni dei mostri dell'oscurità Quindi quelli controllati dal computer Oppure uccidere sempre loro con le armi speciali fornisce super energia bonus Infine, energia bonus delle granate quando si raccoglie una sfera di luce Forse il pezzo più interessante dei tre è un bel elmo Se non si andasse a risparmio vi avrei detto di comprarlo Ma insomma, sono del parere che non sia più così indispensabile questo pezzo Questa invece sì che è indispensabile Sono stato profetico nel video su come prepararsi ai signori del ferro Abbiamo detto che nel caso in cui fosse uscita ultima parola da Zur Vi avrei quasi intimato di comprarla E sì, compratela È una delle migliori armi del gioco in PvP Parliamo di un canone portatile ad otto a colpi Che può sparare rapidamente in modo continuo Quando si spara senza mirare la precisione aumenta E si acquisisce maggiore stabilità quando si spara sempre senza mirare Ed è più facile agganciare i bersagli Possiamo decidere di cambiare arma più rapidamente muovendoci più velocemente Quando appunto si mira Oppure di causare più danni ai bersagli a costo di un po' di maneggevolezza Oppure si può decidere di aumentarne la stabilità Come detto è una delle armi dominanti in PvP Specie nelle modalità 3 contro 3 La dovete comprare anche perché questa si passa ad anno 3 Lo ricordo In quanto anno 2 è dunque portabile A luce massima post Signori del Ferro E in gramma storico della settimana Per le pesanti Vi regala un pezzo esotico Ma anno 1 quindi in massimo 170 di livello luce Volete il Galarorn? No dai sto scherzando Ricordo che il Galarorn sarà acquisibile da tutti Il 20 settembre O comunque dal 20 settembre Tramite un'impresa Quindi nessun problema Bene direi che tutto al solito possiamo passare al momento dei saluti Ricordandovi che pesco a caso Anche se questa volta ho cercato di salutare un po' più di persone Saluto DF Manga il suo amico Elmito Ronco Che sono su Old Gen A proposito ragazzi mi spiace Se il vostro Zur è poco interessante Saluto il clan i Power Rangers di Destiny Tanti saluti a Zordon Mi raccomando vi parlo dei primi Power Rangers Di quando io ero bambino Quindi anni 90 Saluto Webhead Dolphin White Il clan Blood Kings Il clan La Caduta di un Vetro John Boldo Chinakuro del clan Sono giapponese Anzi Sono giappones Dovrebbe essere così no? Il clan Scatarrata di Crota Foglia Una cosa loro non lo so Il clan Icasato di Gerusalemme Reborn from Nothing And Demon Blood 666 Il clan Fellwinter Guardians Da parte di Heisenberg The Gamer Killer 9 Il clan Trials of Lag The Immortals After Dark The Third Trilogy E il clan Mele Il clan Casato della Briscola Ed infine i Guardiani della Luce Tanti clan questa settimana Bene per chi mi chiede stream su Destiny Posso assicurarvi che dal 20 ne arriveranno Possibilmente anche prima Se magari ci sarà qualcosa di interessante Da far vedere Io al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia Immagino che ultima parola La compriate no? Alien vi saluta Love and Peace Guardiani That came from the moon Love and Peace Guardiani Love and Peace Guardiani Love and Peace Guardiani